Può parlarci di lei? Mi presento, mi chiamo Angelo Cacciotto, sono sardo, sono dalla città di Elguero, mi trovo in Valtellina da 49 anni circa, mi sono sistemato, ho famiglia, mi trovo bene, ho trovato molto dialogo con la popolazione, mi sono fatto apprezzare per quello che sono e spero che altrettanto loro apprezzino quello che ho fatto io con il mio mandato. Allora io ho 63 anni, sono andato via da bambino dalla Valfurva, da bambino 15enne per fargli studiare e poi ho trovato lavoro in quel di Saronno e quindi ho passato 40 anni della mia vita in quel di Saronno. Ho avuto la fortuna nel 2007 di ritornare in Valfurva, di candidarmi sindaco e ho fatto per 5 anni il sindaco e presidente del Parco Nazionale dello Stelvio. Poi ho fatto in questi ultimi anni 5 anni di minoranza e ora siccome non sono vecchio, non mi ritengo un vecchio, ho ancora voglia di fare qualcosa, specialmente per la mia valle in quanto gli voglio bene e quindi eccomi qui ancora ricandidato. Ci parli della sua lista, da chi è composta e come è nata? La mia lista è Forba, col simbolo della Lega, un gruppo di giovani residenti in Valfurva che bene o male ci siamo trovati già nelle precedenti amministrazioni elettorali e abbiamo allargato e chiesto a chi voleva portare qualcosa di nuovo nell'amministrazione. Siamo riusciti a formare un gruppo e ci siamo proposti ad amministrare il comune. Da chi è composta? È composta da Luca Bellotti, da Michella Fausta Bracchi, da Candido Compagnoni, da Filippo Compagnoni, da Graziano Compagnoni, Enrico Confortola, Ermanno Confortola, Daniele Tenci, di Ezio Tenci e Vitalini Tiziana. Allora, la mia lista è nata innanzitutto da un primo gruppo della prima lista del 2007, componente principale Edoardo De Cas, che era l'assessore. Poi ci hanno affiancato Carmelino Puntel e Lilia Andreola, che anche nella seconda presentazione della candidatura mi aveva affiancato la Lilia. Poi c'è un gruppo di giovani, di new entry, che probabilmente non hanno dell'esperienza amministrativa, come non l'avevo senz'altro io nel 2007, ma hanno tanta voglia di entrare e di far parte di questa amministrazione. Vogliono rimanere nel loro paese, hanno delle famiglie, hanno dei figli e quindi hanno tutta la forza per poter aiutare a far vivere questo paese. Quali sono le principali problematiche che i cittadini del suo territorio si trovano a dover fronteggiare quotidianamente? Le problematiche che i cittadini hanno nel nostro territorio riguardano soprattutto la possibilità di permanere, quindi la possibilità di trovare lavoro, di creare investimenti sia a carattere sociale, uno sviluppo socio-economico più evoluto di quello che è oggi, trovare la possibilità di collaborare in particolar modo nel turismo, che è il settore trainante della nostra valle e quindi anche l'impiego eventualmente anche nell'agricoltura, perché il territorio della Val Furva è sempre stato un territorio che ha avuto molto a che fare con l'agricoltura. La presenza di baita in montagna è la dimostrazione che nei tempi passati l'agricoltura era il beneficio principale dell'economia della valle. Oggi aspettiamo e vogliamo investire soprattutto nel turismo, aspettiamo investitori e aspettiamo che qualcuno prenda in mano la situazione e possa veramente creare posti di lavoro. Noi altri faremo in modo, se è letto, di dare una buona collaborazione per creare maggior sviluppo. Le problematiche penso siano tante, non sono proprio disastrose, però ce ne sono tantissime. Noi viviamo in alta montagna, siamo un po' fuori dal mondo, siamo l'ultimo paese della Valtellina e abbiamo dei grossi problemi a livello di viabilità, di lavoro, di cultura e di tante altre cose. Noi viviamo principalmente sul turismo. Il turismo è una grande impresa, io lo vedo come una grandissima impresa e quindi forse dobbiamo concentrare tutte le forze che sono attorno al turismo per poter andare in quella direzione. Non è facile, ci sono tante cose che vedevano essere affrontate, ci mancano a mio avviso i collegamenti sciistici, che è una cosa molto importante per la nostra valle. Oggi come oggi un turista, uno che vuole sciare, non ha tanto in mente la pista difficile, ma ha in mente di fare chilometri di piste. Quindi penso che bisognerà guardare da quel lato lì, capire se è possibile farlo e poi abbiamo tante altre cose da portare avanti. Non è, ripeto, non è facile, ma noi abbiamo proprio la volontà di ascoltare la gente, di partecipare con loro e avere da loro dei suggerimenti per poter fare qualcosa per la Valfurba. In che modo ritiene di poter risolvere questi problemi? I problemi della valle sono tanti. Innanzitutto bisogna chiudere tutto quello che è il passato delle opere mondiali, e quindi bisogna azzerare e poi ripartire. Questo comporterà un po' di sacrifici, ma una volta che si vengono a sistemare tutte le opere mondiali, la strada per uno sviluppo diventa anche più facile e troverà anche le risorse da poter impiegare e aiutare la popolazione. La cosa basilare, noi abbiamo messo un programma, ma senza dei punti concreti. Noi guardiamo a tutte le cose, dalla comunicazione, alla sanità, alla cultura, al turismo, al piano di governo del territorio, tutto, ma penso che sia giusto e corretto innanzitutto ascoltare la popolazione. Da loro devono venire dei suggerimenti, e specialmente i suggerimenti devono venire dalle persone che hanno delle attività, che hanno investito, che in questi ultimi anni sono rimasti sul territorio e hanno tuttora delle difficoltà. Non penso che siano solamente le difficoltà della nostra valle, perché le difficoltà sono in tutta Italia e penso in tutto il mondo. Però noi, siccome ritengo la Val Furba ancora un'isola felice, non dobbiamo mollare, dobbiamo perseguire una strada per far rivivere questa cosa. Dobbiamo reinventarci. Il futuro del suo territorio, cosa prevede? Il futuro del nostro territorio prevede un maggior sviluppo turistico, quindi la possibilità di ampliare l'area sciabile, dare la possibilità di poter coltivare quelle che sono le specialità di montagna, nel senso agevolare le passeggiate in montagna, utilizzare di più i rifugi, dare più ospitalità, creare più possibilità di attrazione alla popolazione, ai turisti di poter venire in Val Furba e quindi creare un nuovo ciclo economico di sviluppo. Il futuro del mio territorio lo vedo ancora un'osi felice, perché il che se ne dica, noi abbiamo fatto parte dal 1935 del Parco Nazionale dello Stelvio, io penso che sia stata, anche se ha creato delle difficoltà per chi vive, ha tutelato il territorio e oggi come oggi, noi abbiamo ancora una cosa, possiamo chiamarla vergine, e quindi dobbiamo mantenerla, come l'hanno mantenuta chi ci abitava prima di noi e quelli che devono venire devono trovare questo territorio ancora sano. Le posso dire una cosa, mio nonno nel 1900, fine 1930, inizio anni 40, che aveva iniziato a lavorare, si era sposato a Svizzera con la nonna sempre della Val Furba, hanno portato in tempi non sospetti una prima slittovia in plagiera, quindi c'era già un voler creare un qualcosa di turismo nella valle. Nel 1953 i miei genitori, mio papà che tra l'altro arrivava da Como, hanno costruito il primo rifugio in plagiera, tempi non sospetti, ma volevano creare qualcosa. Ora io dico, con tutte le possibilità che abbiamo, con tutto quello che abbiamo, dobbiamo solamente sederci a tavolino e capire cosa vogliamo, dove vogliamo andare, e io penso che le possibilità ci sono. Noi abbiamo delle persone con una certa dignità e quindi io sono molto ottimista. Vedo il futuro della Val Furba molto ricco di tante belle cose e penso che siamo in grado di ospitare tanti turisti e che ritorneranno. Un appello al pubblico degli elettori. Al pubblico, agli elettori, posso dire in questi cinque anni ho lavorato a tempo pieno in comune, sono stato sempre disponibile, non ho mai nascosto niente, quindi sono stato il più possibile franco nelle cose. Mi sono dato la possibilità di aiutare chi aveva bisogno e faccio appello, se ritengono giusto che io possa andare avanti e votare la lista 2 e Forba. Un appello, facciamo, facciamo volentieri. Noi ci siamo messi in gioco anche con delle difficoltà, non è facile entrare in amministrazione. È un paesino piccolo, c'è tanta difficoltà a esporsi e a fare delle cose amministrative. Forse non c'è il tempo, la voglia, penso che ci sia. Noi ci siamo messi, abbiamo formato questo gruppo, specialmente sui giovani, io ci credo. Noi vogliamo metterci con buona volontà al servizio della nostra popolazione. Grazie a tutti.